All'interno di questa nuova release di After Effects ci sono molte novità piccole ma che rendono l'utilizzo del programma molto più semplice, molto più fluido nelle cose banali, proprio quelle cose che magari avevamo comunque un modo per fare ma che adesso riusciamo a fare con molti meno passaggi ed essendo cose basilari magari sono cose che portano via molto tempo perché vengono fatte molte volte. Proprio in quest'ottica vediamo la nuova funzione di allinea a composizione. Cos'è? Quando selezioniamo più di un contenuto all'interno di una composizione come in questo caso i nostri due loghi abbiamo la possibilità di utilizzare la palette allinea. Fino alla versione precedente l'allineamento poteva essere utilizzato solo fra gli oggetti selezionati cioè se decidiamo di allineare a sinistra per esempio l'oggetto che è più a destra o gli oggetti che sono più a destra vengono allineati al margine sinistro di quello più a sinistra. Annullo l'operazione. Nello stesso modo se decido di centrare la posizione dei due oggetti verranno piazzati in centro ma come vedete non sono correttamente allineati col centro della composizione rappresentato dalla crocetta ma sono semplicemente centrati fra di loro. In pratica After Effects ha fatto il baricentro delle due selezioni e le ha posizionate in quel punto. Annullo mela z nuovamente l'operazione. Adesso abbiamo la possibilità di impostare come riferimento dell'allineamento la composizione anziché la selezione. In questo caso ad esempio riproducendo le stesse due operazioni se allineiamo a sinistra vedete l'allineamento viene effettuato sul margine sinistro della composizione non più sul margine sinistro degli oggetti. Annullo nuovamente sempre dalla tastiera con mela z. Adesso se effettua l'allineamento al centro vedete come i due oggetti risultano non solo centrati fra di loro ma anche perfettamente allineati al centro della composizione. Quindi questa è una funzione in apparenza banale perché si tratta semplicemente di una piccola modifica alle possibilità dell'allineamento ma in realtà ci consente quando lavoriamo con la videografica o comunque con l'apposizionamento di oggetti sulla composizione di accelerare il passaggio senza dover utilizzare dei giri strani per riuscire ad allineare gli oggetti rispetto alla composizione e non fra di loro.